ciao amici come state oggi vedo tutto nero aiuto non c'è soluzione ci penso io vieni a pranzo da me ti cucino tagliatelle al pomodoro fresco e basilico la dieta mediterranea non significa solo sapore gusto e cibi sani un nuovo studio rivela che la dieta del mediterraneo porta notevoli benefici alla salute fisica ma anche mentale emotiva e cognitiva lo studio condotto dai membri della university college of london e pubblicato sulla rivista molecular psychiatry afferma che la dieta mediterranea potrebbe allontanare il rischio di depressione intervenendo sulla memoria sul declino cognitivo frutta e verdura mangiate in quantità assieme all'olio di oliva pesce noci cereali legumi ed erbe aromatiche sono collegati a basse probabilità di soffrire di depressione e stati d'umore negativi a patto che la dieta contenga poca carne rossa e pochi cibi raffinati infatti un basso indice infiammatorio nella dieta sembra corrispondere a una minore presenza di depressione insomma un'ottima soluzione per chi desidera migliorare lo stato di benessere psicofisico in modo semplice e naturale gli studi non sono finiti la ricerca scientifica riguardo agli effetti del cibo sulla complessità dell'essere umano sta continuando ma siamo sulla buona strada l'importante è introdurre frutta e verdura di stagione cereali mediterranei integrali legumi e olio di oliva a rotazione nella giornata alimentare e condire con le nostre erbe aromatiche come timo salvia rosmarino e basilico che sono ricchi di oli essenziali polifenoli e principi attivi benefici così non portiamo solo il cibo ma anche la felicità in tavola per vedere tanti altri video sui migliori alimenti naturali basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia consapevole e vivi meglio diventa anche tu trendy e sano con simona vignali eventi live vacanze wellness scuola di naturopatia consulenze di salute naturale libri ed ebook per il tuo benessere info in descrizione ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao